Figlia del direttore d'orchestra Riccardo Vitale e della coreografa russa Natascha Szydlovski inizia la sua carriera cinematografica nel 1947 col film I fratelli Karamazov. Nello stesso anno diviene nota interpretando lo ruolo di Maria nel film Anni difficili diretto da Luigi Zampa al fianco di attori come Massimo Girotti, Aveninchi ed Elia Scala. Grazia eravamo sette fratelli. 1954, diretto da Melville Shavelson, raggiunge anche una certa notorietà internazionale. Nel 1960, trasferitasi negli Stati Uniti, sposa il petroliere Vincent Lillier, già marito della principessa iraniana Fatemeh Palevi, dal quale avrà due figli. Edoardo Leroy nel 1961 e Vincent Lillier nel 1964. Divorzia nel 1970 tornando a vivere in Italia. Nel corso della sua quarantennale carriera ha recitato in 57 pellicole. Muore a Roma nel 2006 ed è sepolta presso il cimitero del Verano. Muore a Roma nel 2016 ed è sepolta presso il cimitero del 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 Cimitero.